la presenza, è ricco eh? Allora, applauso speciale a Franco Petrone, a Sfugliatella. Ciao Franco, buonasera. Salvo, buonasera. Prego. Salvo, un po' più dietro Franco. Superiamo la via di confine, perfetto. A Sfugliatella, guarda l'estano bancone, appiccino la brevazione, sento l'aria che sta rapa, come faccio un dà pernato, un profumo dolce dolce, intallando l'immaginazione, fiori e semme del limone, pasta frolle e sonno d'amore, una scorza risentata, un coppo di zucchero velato. Ma chi è questa bivantella che si veste così bella? Tutta festa va paracchiata, come pare una pupata. Sprenga voi, mangiatella che sta all'era sfugliatella, fa uno morse, un pizzo e un pizzo, caglionata, è una delizia. Franco, a me piace la frolla, a te? Eh, la riccia. Allora ci facciamo il premio di una bella riccia. Blue Flower, rosa annunziante. Massimo, raggiungici per la foto. Complimenti. A voi come piace la sfogliata? Vediamo, si è più per la frolla. A destra. Frolla. Grazie. Ringraziamo Enzo D'Ambrosio, brillante fotografo. Grazie, grazie. Ringraziamo D'Ambrosio, brillante fotografo. Colliniana Fiocca, videomaker, regista della serata. E Peppe Lientia, che è il cosicista all'occorrenza tecnico del suono, molto pignolo, molto meticoloso. Massimo, stiamo andando spediti, come vedi, per la tua soddisfazione. Altro applauso speciale a Massimo De Mignano.